Circa 150 immaturandi all'Istituto Acerbo di Pescara, un pezzo di storia. Allora, com'è andata questa mattina il primo impatto con la prova scritta? Come li hai trovati ragazzi? Ma assolutamente calmi, già alle 7 e mezza moltissimi di loro stavano qua in attesa di entrare e poi 8 e 20 le abbiamo fatti entrare, ma in assoluta calma e tranquillità. L'inserimento della password per decriptare le tracce di questa prima prova? È un'operazione che abbiamo fatto intorno all'8 e 30 appena aggiunta la password dal MIUR e abbiamo aperto le prove per le 5 commissioni, 8 e 40 già erano state fotocopiate e i ragazzi stavano già a lavoro alle 8 e 3 quarti. E i ragazzi quando sono state lette le tracce? Beh, insomma qualcuno ha storto un po' il naso, poi però ha storto un po' gli occhi però visto che alla fine hanno cominciato a lavorare sono andati tranquilli e stanno lavorando tranquillamente. L'impatto con le commissioni, 5 le commissioni qui? Abbiamo 5 commissioni con 5 presidenti assolutamente validi e quindi problemi al momento non ce ne sono stati. Vi auspicate che problemi non ne abbia l'acerbo perlomeno per quanto riguarda questa assoluta novità. È un esame anche per voi? Sì, noi ai geometri quest'anno faremo l'esame, la seconda prova scritta di disegno completamente in laboratorio, il software CAD ed è una prova di assoluta novità credo anche sul territorio nazionale. Abbiamo predisposto tutto seguendo le procedure che dal MIUR ci sono arrivate, quindi siamo fiduciosi e ottimisti che la prova domani verrà svolta in assoluta tranquillità.